Andrea Tessari della Vischese Oggi per voi davvero una prestazione importante contro una squadra che veniva da 5 risultati positivi consecutivi Sì, abbiamo avuto un buon approccio e sicuramente è stato un buon risultato dobbiamo continuare così sicuramente noi ci crediamo bisogna cercare di giocare partita per partita e pensare risultato per risultato sicuramente Però insomma oggi avete dimostrato che le vostre potenzialità per questo campionato possono essere davvero di buon livello con la concentrazione giusta forse potete togliere soddisfazioni importanti Sì, sicuramente il reparto offensivo è di un'ottima qualità però non bisogna mai sottovalutare nessun avversario perché purtroppo lo sappiamo che il campionato è lungo quindi ci impegneremo così partita dopo partita e poi alla fine vedremo dove ci piazzeremo Adesso il prossimo turno con chi giocate? Prossimo turno con il Quart penultima di campionato poi c'è lo scontro diciamo con il Sanson speriamo di arrivare con una bella vittoria e poi di giocarcela l'ultima giornata e vedere poi anche il Val Chiusella che cosa farà sicuramente Grazie 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 Grazie